Il problema è che ritornare da Avellino è stata una grande cosa, la chiamata di Di Somma è stata una bellissima cosa perché con Di Somma ci conosciamo proprio da quei tempi, anzi forse ancora prima e pertanto so come opera Salvatore, so quello che ha fatto negli ultimi anni e via dicendo e allora a me come mi ha detto io sono stato felicissimo, non ho pensato a nulla e non ho guardato a nulla perché conosco bene le mie zone e pertanto ci lavoro già da quasi 30 anni, pertanto conosco un poco tutto l'ambiente e conosco un poco tutti, pertanto mi sono messo subito in moto. Per quanto riguarda che cosa ricordo della Bre, ricordo dei bellissimi, una cosa bellissima, cosa che bisogna ripetere perché quello che è successo in quegli anni è stata una cosa bellissima che mi sono portato dietro per tutta quella che è stato il mio curriculum calcistico. Ecco mister, al di là delle sue conoscenze che sono ovviamente infinite, della sua esperienza che è pluridecennale, cosa darà in più mister Montanile a questo Avellino? No, io do quello che ho sempre dato, quello che ho dato negli anni, nei dieci anni che feci con Sibilia, nell'anno che ho fatto come responsabile con i pugliesi, io darò sempre tutto perché io sono un tipo particolare, a me come diceva il mio ex presidente l'importante non è partecipare e vincere, io sono uno che punta sempre al massimo dell'impegno, pertanto ad Avellino cercherò di dare l'opportunità a tutti questi ragazzi nostri, irpini, questi ragazzi che gironzono sui campi dilettantissimi di tutta la campagna perché io la giro in lungo e in largo e so che potenzialità abbiamo. Darò sempre di più perché per me, come per Salvatore di Somma, che ci tiene tantissimo, come ha sentito, come gli è stato dato l'incarico, Salvatore veramente ha manifestato un impegno, ha manifestato la sua gioia di poter ritornare di nuovo a vestire questi colori, perché sono colori che non si dimenticano mai, non si dimenticano i diffusi, non si dimenticano le cose belle che abbiamo fatto, i ragazzi che sono passati per Avellino, pertanto io spero che tanti altri possano fare la loro esperienza.